E' stato nel giorno in cui la Chiesa ricorda e festeggia San Francesco, patrono d'Italia e fondatore dell'Ordine, che la Chiesa Retina ha festeggiato una notizia attesa da tempo. A seguito della richiesta del Vescovo Riccardo Fontana, il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha decretato l'elezione della parrocchia di San Francesco in Arezzo, ente civilmente riconosciuto. L'annuncio è stato dato dal Vescovo lo scorso 4 ottobre durante la celebrazione nella Basilica di San Francesco. Un cambiamento importante quindi all'orizzonte, anche pensando alla gestione degli affreschi della leggenda della vera croce custoditi nella Cappella Bacci. Attualmente c'è una convenzione fra il Ministero dei Beni Culturali e i frati francescani, ma con il passaggio a parrocchia questo è un aspetto che potrebbe cambiare. Ancora è tutto aleatorio, di certo la Chiesa, commenta l'Arcivescovo, tornerà a svolgere a pieno le sue funzioni religiose. San Francesco è una parrocchia, è la 247esima parrocchia della nostra diocesi e torna a funzionare, avrete visto che si riempie la Basilica tranquillamente. Quindi c'è bisogno di quello spazio, la Chiesa ha bisogno dei suoi spazi.